Incessante ed eclettica, lei è caro Rama. Da autodidata ha vissuto in oltre 70 anni di carriera tutte le oscillazioni dell'arte. Lei, che è sempre stata appassionale e anticonformista, un passato doloroso diventa stimolo per la sua arte. La usa per esorcizzare sofferenze e paure interiori, circondata da altri amici e artisti come Picasso e Wall. La sua prima mostra nel 1945 fu chiusa dalla polizia per uscenità. Solo pochi anni prima di morire, nel 2015, la consacrazione. Leone d'oro alla Biennale del 2003 e mostre che hanno reso giustizia a una piccola grande artista.